La ricerca di verità e giustizia per la morte di Stefano Dal Corso, il detenuto 42enne trovato deceduto il 12 ottobre 2022 nella sua cella nel carcere di Massama, si trova ora in un momento decisivo. Marisa Dal Corso, sorella di Stefano, ha annunciato l'avvio delle analisi sui campioni biologici prelevati dal fratello. L'esecuzione dell'autopsia affidata al medico legale Roberto De Montis nell'ospedale Gemelli di Roma ed effettuata un mese fa non aveva rilevato segni evidenti di violenza sul corpo, ma il suo avanzato stato di decomposizione aveva limitato la capacità degli esperti di fornire una conclusione definitiva sulle cause del decesso, imponendo la necessità di indagini istologiche approfondite per determinare se la morte sia stata causata da suicidio come originariamente classificato. Marisa Dal Corso non ha mai creduto a questa versione, spingendo per una riapertura dell'inchiesta che ha trovato ascolto. La determinazione della famiglia ha portato la luce nuovi elementi, tra cui la testimonianza chiave di un agente penitenziario che suggerisce una realtà più oscura. Stefano Dal Corso sarebbe stato ucciso dopo aver accidentalmente sorpreso due agenti in un rapporto sessuale, per poi essere portato in una cella dove sarebbe stato fatalmente aggredito. La speranza è che le nuove analisi possano far chiarezza sulla vicenda.